Le Cheetos insieme alle Takis credo che siano uno degli snack americani che ho visto sempre in giro Le ho sempre viste e mangiate dagli americani e le ho sempre collegate a patatine al formaggio Ma questa volta, Flemingot, voglio sperare che sia diversa Ah hi people of youtube, welcome back to a new episode of Assaggiamo A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ormai questa serie sta diventando un purpurri di cose che io provo non solo per soddisfare il mio gusto personale Ma anche per farvi sapere cosa penso di questa roba E devo essere onesto, le Takis mi avevano piacevolmente sorpreso Le Cheetos, come dicevo, le ho sempre viste in giro in film, serie tv o anche su youtube principalmente E le ho sempre collegate a robe di formaggio, roba che purtroppo a me non fa impazzire Ma questa volta, come ho detto, voglio credere che sarà diversa Quindi non perdiamoci oltre e proviamole subito Allora, l'odore posso già dire che parte benissimo Mi ricorda alcuni piccanti che usavano in certi kebab E la cosa non mi dispiace Io tra l'altro quando vado a mangiare il kebab chiedo sempre di farmi aggiungere molto più piccante Perché mi piace sentire il sapore semplicemente La forma mi ricorda tanto un fonzi Un fonzi un po' sgangherato Vabbè, assaggiamolo Anche la consistenza La consistenza è un fonzi un po' più duro però E ribadisco, il sapore mi ricorda veramente la salsa di un kebab Non so se sia un caso Ma mi sta riportando alla memoria proprio un kebab che mangiavo qua a Bergamo E che mi piaceva un sacco Poi credo che abbia chiuso però O abbia cambiato gestione Che a volte è anche peggio Perché ti affezioni anche Ti affezioni al kebabare Poi quando se ne va Oh, e basta, è finita Però, a parte questo Il piccante appena lo mordi non lo senti Si espande piano piano Inizia a espandersi Arrivarti qua in gola Il sapore ti rimane ancora in bocca Non è forte all'inizio Si espande Il che comunque non è male A volte è meglio così Piuttosto che una bomba di piccante subito Ti brucia la bocca Non riesci più a mangiare un cazzo Mentre così è anche soddisfacente Perché gusti il sapore Non solo del piccante Ma anche della patata in sé Inizia a espandersi E ti rimane anche un buon sapore in bocca Come dicevo la consistenza Mi ricorda un po' le fonzi Ma un po' più dure Magari in realtà può essere anche che Il pacco sia un po' vecchio Magari la consistenza normale Davvero quella delle fonzi Però il sapore non mi ricorda per niente il fonzi Non sa per nulla di formaggio Sa di patatina al mais Però buono Perché non senti il sovrasto del mais Il piccante si amalgava bene con la patata Poi come vi dicevo comunque Anche il colore all'interno Subito fa ben sperare Guarda questo qua è un piccolo cervello Allora ti dirò che come al solito Non sarebbero il primo snack Che andrei a prendere in un negozio Ma una volta ogni tanto Me le spaccherei Se ci fossero a prezzo normale in Italia Purtroppo devo ribadire Il mio disprezzo Nel trovare queste cose Per un semplice motivo Questo pacchetto è da 80 grammi Questo pacchetto io l'ho preso in sconto Ma a prezzo pieno Il prezzo più basso che ho visto Era 5 euro 5 euro per 80 grammi è tantissimo È tantissimo ragazzi Non vi dirò dove l'ho trovato Ma in alcune fiere l'ho visto a prezzi anche più alti A volte anche per pacchetti ancora più piccoli Se non ricordo male L'ultima volta che l'avevo visto in una fiera Era un pacchetto Più o meno come questo Forse quello da 100 grammi è 10 euro Non vorrei dire una cavolata Soprattutto per la quantità Ma mi ricordo che era 10 euro E 10 euro per una roba del genere Magari anche no Come avevo detto anche per le Takis Se ci fossero in Italia Ogni tanto me le spaccherei Forse più le Takis Ma perché c'aveva quel sentore di lime Che a me fa impazzire Comunque Mangiamone ancora una E diamo il voto Allora devo dire Che c'è poco da votare sul sapore Alla fine è una patatina di mais Niente più niente meno Niente infamia e niente lode Ma a livello di piccante ti dico È un piccante piacevole È un piccante che come dicevo Ti rimane in bocca E ti lascia anche un buon sapore Come piccantezza non gli darei granché Gli darei un 6 Ma gli darei anche di più per il sapore Darei 6 come piccante Ma un 7 per il sapore Come sapore proprio mi piace Perché non è quel piccante proprio acido Quello che ti fa schifo anche averlo in bocca Anzi è proprio buono Comunque signori Voi avete mai provato le Cheetos? Per me questa era la prima volta E ti dirò Come marca Non è male Non ti dico che le comprerei sempre Ma potrei riprovarne altri sapori Se volete dirmi qualcosa Ditemelo pure qua sotto Noi ci vediamo A un prossimo episodio Ciao a tutti